L'essere santi non è un privilegio di pochi, ma una meta per tutti, senza limiti di età o condizione sociale. I giovani, in particolare, seguiti dagli adolescenti e dai ragazzi, non sono mai mancati nella storia della santità cristiana, anche se per un lungo periodo la chiesa non ha preferito proclamare santi e beati dei fanciulli o adolescenti. Poi questa preclusione è venuta meno e tanti giovani e ragazzi sono saliti o stanno per salire all'onore degli altari. Inoltre le cause in corso hanno subito un'accelerazione e ne citiamo alcuni esempi. Servi di Dio, Silvio di Segna, 12 anni di Moncalieri, Aldo Blundo, 15 anni di Napoli, Angela Iacobellis, 13 anni di Napoli, Girolamo Tiraboschi, novizia carmiliano di Cremona, Giuseppe Ottone, 13 anni di Torre Annunziata, i venerabili Maggiorino Vigo Lungo, 14 anni, Asperante Paolino di Benevello, Cuneo, Marie Carmes González Valerio, 9 anni spagnola, i beati Giacinta Marto e Francesco Marto, Veggenti di Fatima in Portogallo, il beato Nuzio Supplizio, 19 anni di Napoli, il beato Pedro Cullus Gond, 18 anni, martire filippino, i beati David Occhelo, 16 anni, Egildo Irva, 12 anni, martiri ugandesi, la beata Laura Vicugna, 13 anni, cilena, San Domenico Sabio, 15 anni, oratoriano di San Giovanni Bosco, Santa Maria Goretti, 12 anni di Nettuno, latina. Velocemente accenniamo anche i santi adolescenti e martiri dei primi tempi cristiani, come Sant'Arciso, San Vito, San Pancrazio, Sant'Agata e Sant'Agnese. A questo incompleto elenco bisogna aggiungere una beata del basso medioevo, periodo storico avarro di figura di bambini santi. Si tratta di Imelda Lambertini, nata a Bologna nel 1320 circa, figlia di Egano Lambertini e della sua seconda moglie, Castora Galluzzi. Al battesimo ebbe il nome di Maria Maddalena. Ancora bambina, era entrata nel monastero delle Domenicane di Santa Maria Maddalena di Val di Pietra, dove oggi sorge il convento dei Capuccini, e le fu dato il nome di Imelda. La comunità era composta dalla Caniuchesse Irregolari di Sant'Agostino, le quali verso la fine del XIII secolo erano passate alla regola dominicana. Della vita di Imelda non si sa quasi niente, tranne il famoso miracolo eucaristico, che la vita è protagonista, come è noto, ricevere la comunione eucaristica. Non era permesso in quei tempi prima di aver compiuto i dodici anni, ma l'educanda Imelda aveva un solo desiderio, che era quello di ricevere l'ostia consacrata, e ne faceva continua richiesta, ma sempre rifiutata. La vigilia dell'ascensione, il 12 di maggio del 1333, stava in cappella partecipando con le suore e gli altri educandi alla celebrazione della messa. Arrivata la comunione Imelda inginocchiata, al suo posto pregava fervidamente, desiderando nel suo intimo di ricevere Gesù, quando una particola si staccò dalla pistide tenuta in mano dal celebrante e volò verso la bambina. Tutti i presenti poterono vederla. Allora il sacerdote accostato si la prese e gliela mise fra le labbra. Subito dopo raggiante di gioia e ancora inginocchiata, Imelda Lambertini spirò in un'estasi d'amore, a quasi 13 anni. Le sue spoglie furono racchiusi in un artistico sepolcro di marmo con un'iscrizione e si cominciò a recitare in suo onore un'antifora. Dal 1582 le Domenicali si trasferirono all'interno delle mura di Bologna, ottenendo dalla cura arcibescovile la traslazione delle reliquie della Beata, che oggi si trova nella chiesa di San Sigismondo. Da quell'anno il suo nome fu inserito nel catalogo dei Santi Beati della chiesa bolognese. Sotto il pontificato di Benedetto XIV, il quale la ricordò in una sua opera sulla canonizzazione dei servi di Dio, furono avviate le pratiche di conferma del culto della Beata bolognese, che però avvenne solo con il Papa Leone XII, il 20 dicembre 1826. La pratica di canonizzazione fu ripresa nel 1921, proseguendo fino al 42, arenandosi poi per difficoltà di carattere storico. Il culto per la Beata Imelda Lambertini si è diffuso di pari passo con la crescente devozione eucaristica in tutto il mondo, e la patrona la venerata dei piccoli rosarianti e le beniamine di azione cattolica, e Papa San Pio X nel 1908 la indicò come protettrice dei bambini che si accostano alla prima comunione. In Francia, nel monastero di Proulx, sorse in suo onore una confraternita, approvata dai sommi pontifici e messa sotto la guida dell'ordine dominicano. Infine il servo di Dio, padre Giocondo Pio Lornia, domenicano, mise sotto la sua protezione la congregazione da lui fondata, le suore domenicane della Beata Imelda, oggi presenti in Italia, Brasile, Albania, Filippine, Camerun e Bolivia. Ringraziamo Antonio Borrelli per il sito santibati.it, il quale ci ha dato la possibilità di poter leggere questa testimonianza. Ecco, abbiamo letto questa breve biografia che si riassume in una sola azione, la voglia di vivere l'Eucaristia. Quindi abbiamo trovato questa narrazione, ma possiamo così reputare che non sia un caso unico. Se noi appunto prendiamo la storia di Maria Egiziaca e ritroveremo questa donna peccatrice che aveva anche lei preso la comunione e poi era morta. In questo caso questa ragazza, questa bambina, ancora una volta ci insegna tutto il valore fondante che passa dall'Eucaristia. Cioè noi se veramente riuscissimo a concentrare tutta la nostra vita su quello che è il valore della Messa, se noi veramente riuscissimo ad essere realmente devoti di Padre Pio o seguire tutte quelle che sono state le sue indicazioni e la sua indicazione ultima nelle sue ultime ore di vita era appunto quella, avete celebrato la Messa, avete celebrato la Messa. Ecco, la Messa è il valore fondante, quindi tutto ciò che gira intorno alla Messa è praticamente la vita. Se noi riuscissimo realmente a sezionare quello che è il momento dell'Eucaristia e riuscissimo a vivere il parola per parola, frase per frase, tutto quello che appunto la Santa Messa ci offre, capiremmo che nel momento in cui noi ci accostiamo all'Eucaristia, il sacerdote, l'Alter Christi pronuncia appunto la fatidica frase, Beate noi gli invitati alla Messa del Signore, ecco l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Lì è racchiusa tutta la storia della nostra vita, tutto il nostro credo e tutto ciò che è in funzione appunto della vita eterna. In quella frase prescinde tutto, perché quella frase ci accompagna alla grandezza e alla vita eterna. Quindi la Beate Imelda come anima pura, anima pura preparata dal Signore, niente può muoversi appunto senza la volontà di Dio, quindi noi possiamo così esaltare ogni figura, come appunto abbiamo visto nel santo di ieri, che era tutta una virtù, però quella virtù noi riconosciamo che è stata preparata dallo Spirito Santo. Ancora oggi spero che, a prescindere dalla testimonianza dei vari Santi che ci sono stati nella Chiesa, giovani anime, anime pure, l'intercessione della Beata Imelda Lambertini ci possa far capire due cose. La prima è che il suo culto è tutt'altro che relativo, anche perché nei secoli è stata sempre comunque confermata la sua validità. E secondo appunto è il concetto massimo di aspirazione a quello che è veramente l'incontro col Signore Gesù. Poi noi possiamo avere tutte le varie devozioni, la nostra fede, la nostra intimità, il nostro modo di porci verso il Signore. Questa è tutta una cosa personale. Possiamo anche stare nella stanza a pregare e a fare anche tre, quattro, cinque rosari, rosari completi. Va benissimo. Ma dobbiamo prescindere dal fatto che l'Eucaristia è la fonte primaria di tutto. Non possiamo assolutamente bypassare questo. E sono appunto proprio gli esempi di questi esseri puri che ce lo fanno capire. Quindi per quando noi andiamo a messa, per come ci approcciamo alla messa, per come ci approcciamo anche alla panca in cui ci sediamo, tutta la nostra movimentazione, tutto il nostro essere, si è rivolto sempre e solo esclusivamente al fatto che noi andiamo all'incontro col Signore e andiamo a quell'incontro preparati dalla frase appunto che abbiamo detto prima. Beati noi gli invitati alla messa del Signore. Quindi la Beata Emelda possa veramente illuminarci sempre e comunque su quello che è il nostro, la nostra miseria, la nostra miseria non solo umana ma soprattutto spirituale. e ricordiamoci appunto che ogni volta che noi barchiamo quella casa di Dio che è chiamata Chiesa, nel momento che noi ci approcciamo verso al Santissimo, inginocchiandoci o non inginocchiandoci, sedendoci o non sedendoci, ricordiamoci che ogni postura deve essere comunque corrispondente a quello che è il nostro modo di vivere Gesù. Non possiamo pensare di essere un corpo distaccato da una mente e una mente distaccata dallo Spirito. Quindi Spirito, Anima e Corpo devono essere tutti nella medesima situazione, almeno come ci raffrontiamo col Signore. Perché, come dice appunto San Paolo, le membra sono tutte un corpo unico, se soffre un membro soffrono anche gli altri. Quindi se il nostro corpo è distaccato dalla volontà del Signore, la nostra mente non sarà molto lontana da quel corpo. Grazie.